le opportunità di business sono come gli autobus ce n'è sempre un altro in arrivo richard branson che il tipo che ha messo in piedi virgin grande sistema che si occupa delle cose più diverse che rende bene idea di un autobus via l'altro che arriva perché ha cominciato in un modo e tipo con la musica e poi è passato a fare le palestre piuttosto che le compagnie aeree quindi insomma di tutto rende molto bene l'idea di un atteggiamento in cui a volte cadiamo che l'opposto di questo e cioè hai perso l'autobus o dio è proprio una metafora che si usa a potevo fare quella cosa ma ho perso l'autobus e adesso è finita questa metafora dell'autobus che hai perso può avere senso nella logica delle sliding doors può darsi che arrivi un po in ritardo per una cosa ma può anche darsi che arrivi al tempo giusto per un'altra cosa se prendi l'autobus successivo la scelta mentale e tradire a c'è un autobus solo nella vita non avrò mai un'altra occasione e questa è una visione molto negativista l'altra è quella di dire beh ho perso un autobus ce ne sarà un altro nella realtà del mondo dove in larga parte dipende dalla nostra capacità il mondo il suo sviluppo dipende dalla nostra capacità di cogliere la presenza degli autobus di raggiungere le fermate e di aspettare abbastanza per saltarci sopra in questa realtà del mondo gli autobus sono tanti nella metropolitana di milano nelle ore di punta arrivano ogni due minuti perché il minimo per avere la sicurezza di un vagone dietro l'altro quindi stiamo sempre in campana perché l'autobus magari l'abbiamo anche perso ma non è che per questo sono finiti gli autobus infatti le opportunità di business sono come gli autobus ce n'è sempre un'altra in arrivo